Tre facoltà di medicina distante l'una dall'altra, nemmeno 100 chilometri. Quattro se consideriamo anche quella di Verona. Non sono forse un po' troppe per un territorio di neanche 2 milioni di abitanti? In questa puntata di Vivitalia TV Trentino Alto Adige andiamo a vedere alcuni fatti. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata di Vivitalia TV Trentino Alto Adige da parte di Stefano Elena. Se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta a modo suo irriverente e graffiante la situazione che si sta creando all'interno dell'euregio tirolese. Una situazione che ha per protagonista la medicina, in particolare le facoltà di medicina. Sappiamo tutti che il mondo della sanità è alle prese con una carenza drammatica di medici, sia di quelli di famiglia ma soprattutto di quelli specializzati. Fu anche complice al fatto che la politica come al solito si è svegliata tardi e non ha saputo programmare con adeguato anticipo i tempi per la formazione di nuove figure mediche. Anche perché per sfornare un medico ordinario ci vogliono 6 anni e per farne uno specializzato, oltre al corso di laurea, servono altri 4 anni di specializzazione. 10 anni in tutto di formazione. Ebbene, per risolvere parte della crisi dei medici che esiste ad oggi in Trentino Alto Adisi, la provincia di Trento è partita ancora due anni fa, lancia in resta, per creare una propria facoltà di medicina. Creando anche una situazione che era al limite del caffichiano, perché la Università di Trento ha una collaborazione storica con la facoltà di medicina di Verona, mentre la giunta presieduta dal leghista Maurizio Fugati puntava con decisione verso l'Ateneo Patavino, creando anche un conflitto tra due istituzioni storiche nel campo della sanità. Verona, da un lato, con cui l'Università di Trento ha una collaborazione storica, e Padova, con cui l'Università di Trento non ha nessuna collaborazione nel campo del settore sanitario. Dopo una serie di trattative, e soprattutto con l'Università di Trento, decisa a mantenere fede ai propri rapporti con l'Ateneo Scaligero, la giunta provinciale ha dovuto fare marcia indietro ad accettare il fatto che la facoltà di medicina di Trento venisse istituita con la collaborazione dell'Ateneo Veronese. Dopo che si completate tutte le varie pratiche, quest'anno è partito il primo anno di facoltà di medicina a Trento, con una sessantina di iscritti. Ebbene, una facoltà che avrebbe a buon titolo un valore di avere un bacino regionale come minimo di fruizione. Peccato che in questi ultimi mesi si sia mossa anche la provincia di Bolzano che, con il problema del bilinguismo, quindi la creazione di medici bilingui italiano e tedesco, ha pensato bene di rilanciare ulteriormente e non paga del fatto di aver avuto sempre una collaborazione con l'Ateneo di Innsbruck per formare medici che fossero bilingui italiano e tedesco, soprattutto tedesco, ha rilanciato dicendo anche a Bolzano facciamo un'università, una facoltà di medicina in collaborazione con la Cattolica di Milano. In questo contesto viene a emergere una situazione che è quanto mai stridente, perché in tre province, Tirolo, Alto Adige e Trentino, ciascuno risulterà ad avere una propria facoltà di medicina. Se poi andiamo ad aggiungere che a Verona, a distante poco più di 90 km da Trento, ce n'è un'altra storica consolidata, la misura è colma. Ma poi, non più tardi dell'inizio di ottobre, a Innsbruck si sono celebrati i dieci anni dell'istituzione dell'Euregio Trentino-Tirolese-Altotesina, un GECT, quello per la collaborazione, per superare i confini degli stati, una struttura voluta fortissimamente soprattutto dagli ambienti tedeschi dell'Alto Adige che in questa maniera qua vedevano nella cancellazione formale dei confini tra Alto Adige e Tirolo la ricostruzione del Tirolo storico, dell'antico Tirolo storico antecedente al 1918, epoca in cui, dopo la prima guerra mondiale, il Trentino-Alto Adige è stato annesso all'Italia dopo essere stato scisso dall'Aufra. Il problema, appunto, è questo. Ma l'Euregio, nata per creare reti per favorire la collaborazione, non poteva essere uno strumento per favorire una collaborazione tra gli atenei di Trento, Bolzano e di Innsbruck e soprattutto tra le facoltà di medicina di Trento e di Innsbruck. Non credo che, bene o male, Bolzano abbia così una necessità impellente di creare propri medici, anche perché una volta che è creata una facoltà, prima naturalmente che sia a regime, passano dieci anni e in dieci anni tante situazioni vengono a mutare. Però i costi di impianto di una struttura avviata ed istituita rimangono per molti anni ancora dietro. Non dimentichiamoci che vent'anni fa, quando c'era un eccesso di medici, viene istituito il discorso del numero chiuso per limitare l'accesso e soprattutto per contingentarne la formazione. Poi, naturalmente, man mano che sono mutati gli equilibri, non si è provveduto a ridurre il numero chiuso per poter creare maggior numero di medici in base alle necessità, anche per consentire il rincazzo di quelli che andavano in pensione e si è venuto a creare il buco in cui adesso i politici si affannano. Però da passare dal miga al massa c'è anche una bella differenza. E soprattutto ci sono in ballo fior di soldi pubblici, perché mettere in piedi una facoltà tecnica così delicata come quella di medicina non è sicuramente una passeggiata. Cosa dire? Come detto prima, sarebbe opportuno che l'eureggio fosse veramente tale, non fosse semplicemente un'occasione per fare scampagnate dei politici con scambi di gemellaggi tra Trento, Bolzano e Innsbruck, ma si facesse sulle cose concrete, anche perché gli abitanti delle tre province sono più o meno un milione e mezzo, poca cosa rispetto all'Europa nel suo complesso e soprattutto poca cosa rispetto all'enormità delle spese che sono in corso. Da questo punto di vista, se veramente l'eureggio ha una sua finalità, venga a dimostrarlo nelle cose pratiche e soprattutto Bolzano venga a miglior consigli e sia lei con Trento e con Innsbruck per formare i medici che servono anche all'Alto Avice. Altre cose onestamente non servono. Cari amici vicini e lontani, vi avevo accennato come il nostro Domenico Lacava interpreta la situazione. Andiamo a vederlo. I protagonisti di questa vignetta sono il presidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccer, e il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Compaccer, da buon tedesco, un po' maccheronico, parla in italiano un po' maccheronico. Anche noi a Bolzano avremo grande università di medicina. La parassua, il trentino, gli dice Che palle, i soliti copioni, per non dirti peggio. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata di Vivitalia TV Trentino Stoadise giunge al termine. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza per andare avanti con questa voce libera, autonoma, indipendente, soprattutto fuori dal coro. Intanto, da parte di Stefano Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Grazie a tutti! Grazie mille! Autore dei sovrapposti